Non si attenua alla bufera per le spese pazze nelle passate amministrazioni in regione Liguria. Sono già due gli ex consiglieri regionali che la Corte dei Conti ha chiamato a risarcire l'ente per aver beneficiato di rimborsi giudicati illegittimi. L'ex consigliere di Unione a Sinistra, l'imperiese Franco Bonello, dovrà pagare 67.000 euro e 46.000 euro di sanzione. Dovrà risarcire la regione per le stesse cifre anche l'ex consigliere Giacomo Ronzitti, anche lui di Unione a Sinistra. Per Ronzitti l'accusa è quella di aver approvato i rendiconti presentati da Bonello. Sono stati invece assolti i membri della commissione rendiconto, incaricati di verificare le spese sostenute dal gruppo nel 2008. Al centro delle indagini le fatture per ottenere rimborsi sull'acquisto di giornali, stampe, convegni e soprattutto pranzi e cene. Intanto prosegue il procedimento penale a carico del leghista Francesco Bruzzone, attuale presidente del Consiglio regionale, accusato di aver esercitato pressioni sulla moglie del PM e della direzione distrettuale antimafia Alberto Lari, chiedendole di interessarsi proprio dell'inchiesta sulle spese pazze.